Sfido Fracassi a un dibattito pubblico in Piazza della Vittoria. Il candidato sindaco di centrosinistra Ilaria Cristiani lancia il guanto di sfida nei confronti del rappresentante del centrodestra. In questi mesi, ha scritto l'ex assessore democratico, Fracassi si è messo nel proprio cantuccio e ha detto le cose che voleva dire senza un confronto reale. I cittadini quindi sono riusciti ad ascoltare poco e a partecipare ancora meno. Per questo motivo Ilaria Cristiani ha deciso di sfidare il candidato del centrodestra in un confronto pubblico sul dove quando l'idea è chiara, Piazza della Vittoria è ritenuto il posto più idoneo, ma ad ogni modo l'importante è che ci sia uno spazio ampio e ben accessibile a tutti i cittadini pavesi. Sulle tempistiche la proposta del candidato del Partito Democratico è entro e non oltre il 19 maggio, così che i cittadini abbiano ancora una settimana per riflettere. Ma la proposta del centro-sinistra ha trovato l'immediata replica di Fracassi. Ancora una volta il PD dimostra di essere miope e poco democratico, così come lo è stato in questi cinque anni. I candidati sono più di due, ha replicato Fracassi. Ritengo quindi doveroso e rispettoso nei confronti di tutti che ci sia un confronto aperto. Per questo il candidato del centrodestra ha invitato gli avversari il prossimo 19 maggio alle 21 alla sala dell'annunciata.